Paolo Di Blasio, autore del gol-vittoria, tre punti importantissimi contro l'Alti di Asomni. Sì, fondamentali, assolutamente. Oggi l'importante era vincere e prendere tre punti, a prescindere dal gioco. Dovevamo portare la vittoria a casa, ce l'abbiamo fatta e sicuramente ci darà fiducia per il proseguo del campionato. Eravate reduci da sei sconfitti di fila, la classifica non era bellissima. Qualcosa adesso è cambiato? Sì, abbiamo vissuto un momento difficile sicuramente. Poi quando inizi a non vedere i risultati magari anche psicologicamente si viene meno. Quindi abbiamo provato a reagire, ci stiamo riuscendo pian piano. Oggi è stata una dimostrazione. Dobbiamo comunque fare di più, dobbiamo cercare di invertire ancora di più la rotta. Ma questo solo con il lavoro, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche. Obiettivo salvezza sicuramente alla portata di questo gruppo. Sì, sì, senz'altro. Noi dobbiamo cercare comunque di fare più punti possibili per toglierci dalla zona bassa. Oggi è stato un piccolo tassello e dobbiamo aggiungerne altri e dobbiamo raggiungere questo obiettivo. Tutti insieme penso, sono convinto che ce la faremo. Daremo il massimo. Prossima tappa a Spinete. Gara difficile contro una squadra che naviga nella zona nobile della classifica. Sì, sono tutte difficili. Spinete è una buona squadra, quindi giocano in casa, sarà una battaglia anche lì. Però dobbiamo cercare comunque di proporci, di provare a fare risultato contro tutti, contro tutte quelle che attestano. Dal punto di vista personale, contro l'Altia Samnium, gara di sostanza e di spessore per te, quanto potrei ancora dare a questa squadra? Fin quando ce la farò sicuramente. Darò tutto come ho sempre fatto. Spero di dare ancora tanto per questa maglia e di ripagare tutte le belle cose che abbiamo visto insieme in questi anni. Quindi sicuramente finché ce la farò darò tutto.